Hotel Eden, raffinato calore di casa L'hotel Eden è sinonimo di eleganza, tutto il prestigio e la raffinatezza di un hotel tre stelle a Modena, perfettamente coniugati con la tranquillità e il calore di una casa. L'eleganza a cui si sposa con servizi e comodità. A pochi passi dal centro storico si trova a due chilometri dal quartiere fieristico e a dieci minuti dalla stazione. L'hotel dispone di camere completamente ristrutturate, dotate di aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, frigo bar, tv satellitare, telefono collegamento e cassaforte.